Buona giornata, da alcune settimane che tanti studenti hanno iniziato la scuola. Si ricomincia un anno, si continua un anno, ma si continua con la grinta e con l'attenzione da avere nel proprio dovere, perché è proprio questa attenzione al proprio dovere che forse ci fa scoprire che cosa siamo chiamati ad essere e a diventare. Certo che c'è la fatica, certo che c'è, diciamo così, anche la pesantezza di fare le cose, ma dov'è che non la trovi? Dov'è che non l'affronti? Dov'è che, dov'è che tutto diciamo così in discesa? Non troverai mai. Allora anche ragazzi diamoci da fare e un darsi da fare non solo per avere un buon voto, ma soprattutto per essere nella maniera con cui affronto certe situazioni e certe cose. Sicuramente avrà anche un beneficio sia negli sport che si fanno, sia nelle amicizie che si vivono, sia nei desideri che si affidano. Il Signore ti illumina e ti benedica. Buona giornata. Grazie a tutti.